Amici, buon giorno. Della National, che ha un mese dalla sua presentazione e che ha dato dei riscontri estremamente positivi, è emerso sia a voce che dai social, dai record che sono apparsi sui social, un aspetto estremamente interessante. I tiratori che l'hanno utilizzata hanno notato una morbidezza evidente, percettibilissima. Tutti sono concordi nel dire che è una cartuccia che batte poco, da poco rinculo e poco rilevamento, quindi una seconda canna estremamente rapida, estremamente efficace, ed è un pochino uno dei nostri punti a cui tenevamo di più. Diciamo che abbiamo centrato un obiettivo primario molto importante. Quello che un po' la gente non ha ancora capito, non ha ancora forse perché non è stato sufficientemente propagandato, non è stato spiegato con una chiarezza adeguata, è l'efficacia del Boslo Gordon. Il Boslo Gordon ha veramente dei grandissimi meriti in questo discorso relativo all'astivolimento del regulo e del rilevamento. Tutti voi sapete, immagino come funziona, all'interno del Boslo Gordon, noi nel bussione abbiamo un ammortizzatore, un ammortizzatore che non è presente sui bosoli convenzionali. In fase di sparo, quando la polvere si trasforma in gas, abbiamo un impatto molto forte di questi gas che si vogliono espandere sulla borra, quindi sulla parte posteriore della borra, sulla cuvette e sulla pulsione stesso. Noi, avendo una parte ammortizzata anteriore, che è il molletto della borra, e una parte ammortizzante con il Gordon, anche posteriore, che è l'emulsione attivo, abbiamo un doppio fronte di smorzamento di quest'onda dinamica, che è quella che concorre a dare fastidio alla spalla, al viso e al fucile. Il Gordon è molto importante. Se noi lo avvertiamo su una cartuccia come questa, a 24-28 grammi, vi potete immaginare come lo avvertiremo sulle cartucce più pesanti da caccia, dove abbiamo grammature importanti, abbiamo velocità molto alte e quindi sollecitazioni ancora più spinte. Il Gordon è veramente molto importante. È veramente un aspetto balistico da capire, perché credo possa essere in assoluto, uno dei punti innovativi più importanti degli ultimi 20-30 anni. È qualche cosa che contribuisce in un modo mai avuto prima a smorzare il rinculo e rilevamento della cartuccia. Vuol dire essere più freschi nelle lunghe serie di tiro dove si spargono tanti versati, vuol dire essere meno sollecitati a caccia quando si spargono dei fucili leggeri. È un aspetto estremamente importante. Penso che valga la pena per tutti di considerarlo, di guardarlo attentamente e di valutare quali sono gli effetti positivi che vengono da questo borsolo straordinario. Bene, questo è quanto volevo dire a tutti voi. Un saluto.